Musolini poi chiese di passare con quest'aereo basso sulla città e Musolini era dietro le torri lì del palazzo e mamma mi prese a scuola e mi portò a Piazza Venezia e passò a questo sibilo a cui nessuno di noi era abituato e passò con l'aeroplano basso sulla città e beh, fece un certo effetto allora, sì e adesso quell'aereo lì sta a Vigna di Valle, al museo Musolini